Ciao a tutti, finalmente sono riuscito a mettermi davanti alla telecamera per registrare questa restituzione che volevo fare a Elisa del percorso che abbiamo fatto e che stiamo in realtà facendo insieme. Ho scelto di fare il percorso con Elisa qualche settimana fa, abbiamo fatto 7-8 sessioni, mi sembra 7 e addirittura le ultime due sessioni non sapevamo quasi neanche cosa andare a sbloccare e da quanto efficaci sono state le prime, quindi c'è stata per me una trasformazione veramente importante ed è per questo che ci ho messo anche un pochino è da qualche settimana che Elisa mi ha chiesto di dare questa restituzione nel gruppo, ma ci ho messo un po' perché avevo bisogno di mettere in fila le idee, perché sono cambiate talmente tante cose che ho scritto un papiro enorme per tenere traccia di quello di cui avrei potuto parlare in questo video, quindi abbiamo deciso insieme che al posto di parlare della restituzione ve la leggo direttamente. Quindi faccio in questo video come ci siamo divertiti a pensare di essere tipo Sergio Mattarella al discorso di Capodanno che legge il discorso del Presidente della Repubblica e invece io vi leggerò la restituzione che ho scritto per lei e per questo percorso e mi viene a dire che è una restituzione che scrivo anche per me perché è da diverso tempo che cercavo questa leggerezza, questa comprensione profonda di quello che faccio come professione è anche una soddisfazione incondizionata dei risultati economici della mia attività che mi ha permesso poi anche di avere dei risultati economici veramente soddisfacenti nelle ultime settimane. Nonostante io premetto che sono in un periodo di vita in cui non ho quasi per niente tempo, sto traslocando, ho anche altri progetti che sto seguendo, quindi sto dedicando alla mia attività a pochissimo tempo ma quello che sto dedicando è estremamente efficace e sono veramente contento di questo. Quindi spero di non tediarvi con la lettura perché magari un video spontaneo veniva più divertente, più entusiasmante ma non voglio perdermi dei pezzi semplicemente dimenticandomene parlando in maniera spontanea e quindi ho deciso di leggervela proprio per questo, per darvi completamente tutto quello che posso darvi di quello che è stato il percorso che ho fatto con Elisa e che a me ha dato tanta ispirazione anche sentire le esperienze degli altri, quindi voglio condividere la mia per darvi un po' di motivazione, un po' di fiducia che anche se la vostra attività via pesante in questo momento può diventare leggera, infatti questo è il primo risultato più, forse quello più importante che ho avuto nel percorso insieme a Elisa proprio perché cavoli che bello che è lavorare con leggerezza, con la spontaneità, il cuore aperto e la passione senza legare il valore di quello che porto al risultato economico, questo era uno dei punti più importanti da scioglierle e direi che l'abbiamo sciolto benissimo. Va bene, bando alle ciance, io vorrei cominciare a leggervelo perché è davvero lungo, spero di non annoiarvi di nuovo e lo pubblicherò anche nel post così se preferite leggere avete anche il testo e così potete leggervelo direttamente. Allora, ho scelto di fare un percorso con Elisa già prima che lei offrisse un percorso per professionisti, era all'inizio del 2022 quando Elisa ha pubblicato un gruppo, un video, in realtà aveva fatto una zoom in cui raccontava, ha voluto condividere quali sono stati i passaggi che ha fatto lei per stapparsi dalla stagnazione del metodo e del marketing e trovare il suo modo per esprimersi. Mi ricordo che aveva riscosso un successo immediato, sia nella zoom c'erano un sacco di persone, sia per se stessa, nel senso che si era proprio sbloccata e le cose funzionavano benissimo, erano diventate facili e divertenti. Ricordo che è stata una delle prime persone a quel tempo a farmi assaggiare, comprendere, proprio sentire con il mio corpo nel profondo che fosse veramente essenziale mettere il focus sulle persone. L'avevo sentito nominare tante volte questa cosa. Grazie. 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 In pace col cibo, felice nel tuo corpo, quindi non c'era la possibilità di farlo. Mi ricordo che ho invidiato tantissimo quel passaggio che ha fatto soprattutto per, e qui vado proprio a leggerti i punti, la leggerezza, perché mentre sentivo parlare Elisa mi arrivava proprio la sensazione chiara della possibilità di farlo, io mi sentivo appesantito, macchinoso, arrugginito e in quella Zoom mi sono sentito wow, si può fare, non è Dio in terra, Elisa era una che la settimana prima stava, magari non la settimana prima, però qualche settimana o mese prima stava come stavo io al momento e ora si era sbloccata e tutto fluiva, quindi il grande si può fare e invidiavo l'autenticità estrema, nel senso che non mi sembrava una di quelle persone iper professionali in giacca e cravatta che è da 20 anni che fanno il loro lavoro anche se non è in giacca o cravatta, ma invece Elisa mi ha parlato con l'umiltà di qualcuno che voleva semplicemente dare dei consigli a degli amici piuttosto che dalla posizione di dover insegnare qualcosa, che è qualcosa che io apprezzo veramente tanto e ho invidiato anche il successo in termini economici, che era quello che io non riuscivo ad avere in primis in quel periodo attraverso la vendita del mio percorso, invece lei mi sembra che dicesse di aver venuto 10 percorsi in un mese, che quindi aveva proprio strappato qualcosa di forte e in più la cosa importante che ho notato è proprio che lei diceva di non essersi più snaturata, ma che anzi ha ricominciato a lavorare con un approccio tutto suo, senza spezzarsi la schiena e che anzi mi dava l'impressione di divertirsi a fare il suo lavoro, che era qualcosa di talmente lontano dalla mia esperienza di quel momento che veramente ho provato invidia. In più un'altra cosa non meno importante era l'idea che mi ha passato di quanto facile fosse portare avanti la sua attività una volta fatto questo passaggio di comprensione profonda della nicchia e completamente fuori dallo schema del per avere successo bisogna spaccarsi la schiena, bisogna impegnarsi tantissimo, bisogna sudare mille camice, mi sembrava che avesse capito quel segreto che permette di andare fluidi, senza proprio freni e sentirsi totalmente a proprio agio nel comunicare, nel fare il proprio lavoro. E' che a quel tempo, come dicevo prima, non offriva tutoring privato, io onestamente lavorare in gruppo, io mi ci sono sempre sentito male, essendo diluito in mezzo all'esperienza di altri e alle richieste degli altri non mi sono mai sentito veramente ascoltato e mi ricordo invece un tutoring in cui l'ho fatto con Elisa proprio sulla nicchia a riragionare, che cavolo che quel quarto d'ora che abbiamo fatto insieme mi aveva illuminato quasi più di tutte le lezioni del master che ho fatto sulla nicchia e mi aveva acceso ancora delle lampadine e mi aveva fatto fare dei passaggi già importanti. Io prima di cominciare con Elisa e diciamo nell'ultimo anno, dall'estate scorsa in poi fino a gennaio, febbraio, ho passato un periodo veramente tosto, nel senso che mi sentivo veramente appesantito da un metodo che non riuscivo a far funzionare come mi era stato venduto. Io mi sforzavo tantissimo di seguire gli schemi, di seguire tutte le cose, ma non ci riuscivo, avevo delle resistenze che mi bloccavano proprio nell'applicare le cose, ma quelle resistenze prima di tutto le avevo un po' giudicate io dicendo ah non sono capace, ma poi mi sono anche reso conto che erano resistenze legittime, proprio facendo il percorso con Elisa adesso mi sono reso conto di questo, che non tutti i metodi sono fatti per me, io non sono fatto per questo lavoro, non tutti i metodi sono fatti per me, mi sentivo finto quando scrivevo i post, ma anche quando registravo dei video e non riuscivo a trasmettere il messaggio potente che sentivo di avere dentro, quella passione che mi ha portato poi a scegliere questa professione e non riuscivo anche a condividere con il mondo e non mi capacitavo perché non riuscissi a passare questo messaggio e non riuscissi a comunicarlo, perché ci mettevo un sacco di impegno a fare quei video e quei post, passavo le ore, ma non riuscivo a comunicare in maniera potente il mio messaggio. In più ero squatrinato perché vendevo pochissimo e a metà del valore del mio percorso, che mi voglio già alzare il prezzo perché mi rendo conto che la trasformazione di porto è importante e mi sentivo insoddisfatto quindi del mio lavoro e quindi rendevo anche di meno, anche come professionista proprio nelle sessioni con i miei clienti rendevo di meno perché cominciavo a pensare che se non vendo vuol dire che non sono bravo perché allora dovrei avere la fila davanti alla porta, se sono bravo dovrei avere tantissime richieste e invece tutto quello che pubblico non ha valore allora perché se tutti mi dicono di pubblicare valore e io penso di dare valore e il feedback è che non arriva a nessuno, allora non ha valore quello che ho da dire. Ero entrato in questo loop qui, quindi mi sentivo quasi in colpa con le persone che mi sceglievano perché dentro di me pensavo che sicuramente potevano trovare di meglio, che io non ero la persona giusta perché non ero abbastanza bravo, interessante per poter risolvere i loro problemi in maniera efficace e incisiva, era proprio un problema quasi, era diventato un problema di autostima, io non sono mai stato uno con grossi problemi di autostima ma negli ultimi mesi sento proprio di aver toccato un buco potente della mia identità, avevo messo in discussione la mia identità e il mio valore come persona, tutto ciò mi creava una macchinosità nel portare avanti la mia attività che passavo le giornate a scervellarmi su cosa non stesse funzionando, cosa poteva funzionare, mi stavo sforzando 150 e ricevendo in cambio solo il 10% dei risultati che volevo e andavo in burnout praticamente ogni 2-3 settimane mi dovevo fermare perché è bruttissimo pubblicare e non vedere nessun feedback di ogni tipo, impegnarmi le settimane senza vedere un euro e continuare a pubblicare costantemente come di fatto il metodo richiedeva. Avevo cominciato seriamente a pensare che non fosse davvero il mio lavoro, che non avessi veramente voglia di aiutare le persone e che non fossi portato per comunicare con loro, probabilmente ad andare avanti così avrei mollato. Mi metto un punto di domanda qui nel senso che ho sempre avuto una grande fiamma dentro che mi faceva riconnettere con la mia missione ma mi rendo conto che prima o poi avrebbe vinto probabilmente la parte di me che non vuole assolutamente fare un lavoro sforzandomi per tutta la vita per farlo funzionare e siccome mi stavo sforzando probabilmente avrei piano piano messo da parte anche quella missione che sentivo di avere nei confronti delle persone che seguo e avrei rischiato probabilmente di mollare questo lavoro e magari riprenderlo dopo qualche anno, però con un grande amaro in bocca mi sarebbe rimasto. Cosa che mi aspettavo dal percorso con Elisa? Io volevo fare esattamente lo stesso click che vi ho raccontato adesso e ormai mi aveva dato quella speranza di poter uscire dalla situazione in cui ero, quella Zoom, e di potermi vivere finalmente bene il mio lavoro e avere successo senza autodistruggermi. Premetto che nei mesi prima di questo percorso mi sono preso cura di rimuovere quei blocchi di cui ho parlato e le resistenze che avevo creato io stesso e che ancora mi portavo dentro e che avevo portato a galla con tutta quella fatica anche, la fatica mi aveva fatto venire fuori i nodi che dovevo sciogliere. Ho fatto psicoterapia per assicurarmi di recuperare anche le forze e la lucidità necessarie a sentirmi pronto, secondo me è una cosa importantissima questa. Io mi sentivo pronto a fare il percorso con Elisa e a fare un passo evolutivo, reale nella mia attività. Perché? Perché avevo fatto psicoterapia per rimuovere tutto quello che avevo visto essere dei blocchi che non avevano a fare con la tecnica, la struttura del mio business, ma con chi io credevo di essere e cosa io potevo pensare di fare. È un pezzo che sicuramente ho lavorato anche con Elisa, ma devo ammettere che ovviamente prendermene cura prima mi ha facilitato, mi ha permesso di vivere la strada in discesa praticamente. Senza più paure, senza più condizionarmi dagli arti. Io avevo tantissimo condizionamento rispetto a quello che gli altri pensavano, i miei clienti, la mia famiglia, i miei colleghi, i miei insegnanti e l'ho rimosso completamente grazie al lavoro su di me, questa paura e la ciliegina sulla torta poi è stata col percorso con Elisa in cui principalmente ho preso moltissima fiducia che quello che porto ha un valore inestimabile. Cosa ho ottenuto? Allora, diciamo che ora è stata veramente una rivoluzione per me, nel senso che in pochissime settimane sentirmi così rispetto al mio lavoro è strano quasi, nel senso che partivo fino a qualche settimana fa abbastanza scettico di poter sbloccare questa situazione in modo rapido come lo è stato. Poi comunque vedremo anche gli sviluppi nei prossimi mesi, però sicuramente continuerò a lavorare anche con Elisa per continuare a raffinare quello che abbiamo sbloccato e visto insieme. Però adesso devo dire che mi sento veramente sicuro di essere in grado di aiutare le mie persone, questo è fondamentale, il pilastro più importante del percorso di Elisa secondo me, ti faccio io il pitch Elisa. Abbiamo trovato l'esatta dinamica che ho superato io e che mi portano i miei clienti. Non c'ero mai riuscito a descriverla con così tanta chiarezza e devo dire che è veramente un processo che cambia completamente le carte in tavola. Ha voluto dire riaccendere una fiamma potentissima dentro di me e di trasporto, di desiderio di aiutare gli altri perché finalmente mi ci rivedo sul serio in quello che mi portano, vedo esattamente la dinamica che mi portano e come io sono in grado di risolverla. Mi sento talmente sicuro di riuscire ad aiutarli che è sparita completamente la paura di essere criticato o messo in discussione, come dicevo prima. Mi sento che avrei una risposta intelligente per ogni obiezione che mi fanno, non solo i miei clienti ma chiunque. Qualsiasi persona arrivi da me adesso e mi dica, ah beh ma tu parli di questo ma in realtà per gli altri, non per tutti è così eccetera eccetera. Io mi sento completamente sereno, non mi aggancia questa cosa, non mi sento neanche spavimentato dalla possibilità che succeda perché rispetto alla tematica che abbiamo inquadrato insieme con Elisa mi sento veramente esperto ed è una sensazione wow di una pace dentro, cioè la testa mia si è fermata completamente. Sento che è veramente la base di tutto. Un'altra cosa che sento di aver ottenuto è che mi sento veramente libero, libero di sperimentarmi, mi sono disidentificato dalla convinzione che o seguo il metodo, qualsiasi metodo, non mi sono messo nei mesi anche a studiare altre cose di marketing ma perché non funziona, come devo fare il video, come devo scrivere il post. No, io adesso sto sposando la convinzione che tutte le tecniche funzionano solo se io mi sento a mio agio a usarle e solo se mi aiutano a diffondere, a comunicare se io sono in una vibrazione alta mentre lo faccio. Se io tento di mettere la mia vibrazione alta, la mia presa bene, tra virgolette, dentro una struttura mi sono reso conto che non funziona. Quindi magari ci sono altri che in realtà funzionano molto meglio mettendosi dentro una struttura, io invece mi sento completamente asfissiato dalle strutture e con Elisa mi sono reso conto che posso dare la mia connotazione a ogni tecnica di marketing o di comunicazione che incontro e che sperimento. E qua c'è un bel wow, nel senso che per me l'unicità, io vendo unicità, io vendo identità profonda, e quel senso di identità. Quindi se io non mi sentivo allineato e coerente con la struttura, come posso passare a quella coerenza e quella identità che io ho sempre sperimentato dentro di me? Era proprio un non-sense per me. Ho sempre sperato che fosse possibile questa cosa qua, ma cominciavo veramente a perdere la fiducia, e ero molto sfiduciato che ci fosse la possibilità di incarnare il marketing di maniera spontanea. Ora invece che ci sono dentro e che questa filosofia mi ha portato a vendere 4 percorsi in 2 settimane e veramente con 1, 2, forse 3 post a settimana scritti bene, non ci penso più a incasellarmi di nuovo in strutture o metodi che non mi risuonano. Io sono il metodo, mi sono reso conto, il resto sono tecniche che posso usare oppure no. a mia discrezione e a mio ritmo. Non sempre devo andare fuori dalla mia zona di comfort per mettere in discussione me stesso, sarò io a non essere capace. A volte invece bisogna adattare lo strumento a come io mi sento comodo, alla mia zona di comfort, perché se io non sono comodo non riesco ad aiutare gli altri principalmente. Prima mi sentivo un marketer completamente, dedicavo molto più tempo al marketing che allo studio della mia nicchia, della mia persona, dei suoi problemi e tentavo di vendere percorsi in maniera molto sterile e orientata proprio alla vendita. Ora mi sento completamente una guida al cambiamento e il marketing è una conseguenza molto piacevole, devo dire, del fatto che adoro esprimere la mia opinione e aiutare gli altri. Io sto adorando pubblicare i post, essere soddisfatto di ciò che condivido ed essere utile agli altri è ora il mio obiettivo. La vendita, diciamo, è diventata una conseguenza. Ora che oltre a questo lavoro sto portando avanti un sacco di progetti, quindi ho pochissimo tempo e soprattutto li sto portando avanti perché mi sono reso conto che se io non guadagno e non metto da parte, se non mi assicuro la mia sopravvivenza, quello stress di dover vendere per forza mi riporta in quella struttura di vendita, 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 vendi, vendi, vendi. E invece mi sono reso conto che se il mio business non è ancora decollato ho bisogno di prima garantirmi la sopravvivenza e mi sono trovato dei progetti che mi risuonassero e che non sono per forza il mio percorso per aiutarmi a fare questa transizione fino a che non parto veramente del tutto e che posso sentirmi completamente autonomo con quello che faccio, con il mio percorso. La cosa bella di questo è che sento di avere pochissimo tempo anche perché io non amo lavorare troppo e strafare di lavoro quindi più di 6-8 ore al giorno non mi ci sento e se 4-5 ore le dedico ad altri me ne restano due al giorno praticamente tra sessioni e post da scrivere mi rendo conto che adesso da quanto mi piace condividere la mia opinione i post me li scrivo la domenica in spiaggia quando di solito non avrei mai pensato di portarmi il lavoro in spiaggia perché in spiaggia mi rilasso, punto e basta però per me è diventato rilassante ragionare sulla mia nicchia è una passione appassionante una volta che trovi quell'allineamento sento proprio l'allineamento e parlo anche un po' dei punti che non mi aspettavo di trovare di Elisa, con Elisa e nel percorso con lei ma che effettivamente sono stati illuminanti e hanno tutti a che fare con l'estrema cura che ho imparato implicitamente a usare per i miei clienti e per il mio percorso e per il mio profilo facebook Elisa è una professionista che ha estrema cura che non bada a donare, a donarsi ma non perché sia una strategia di marketing ma perché proprio vuole arrivare al cuore delle questioni al cuore dei problemi, al cuore delle soluzioni e quindi questa cosa mi ha fatto riflettere molto su il modo in cui gestivo la mia attività e in particolare vado per punti la cura delle mie persone da quando lavoro con Elisa mi sono reso conto che amo studiare i loro problemi amo stare con loro in sessione mi dimentico che è passata un'ora in più quando sono in sessione mi ricordo che potrebbe diventare anche un problema quando ne avrò tanti da gestire perché ci passo proprio il tempo volentieri in sessione con i miei clienti amo che si sentano a loro agio e che percepiscano chiaramente che sono dedicato a loro al 100% un feedback che mi ha dato una mia cliente ultimamente è stato wow mi sento proprio seguita e con tutti i percorsi che ho fatto prima non era così mi sento che ti dedichi veramente a me questa è una cosa secondo me senza prezzo credo tra l'altro che sia veramente la differenza sostanziale tra lavorare a sessione e lavorare a percorso io amo i percorsi e credo che sia anche il motivo per cui un percorso deve costare di più e mi sento completamente onesto a farlo costare molto di più dei miei colleghi che lavorano a sessione perché sento di metterci veramente cura di rivedermi addirittura alle registrazioni delle sessioni prima di quella dopo quindi abbiamo proprio riflettuto wow quanto valore quanta dedizione che queste persone magari prima non si aspettano di ricevere ma dopo sono contenti di pagarlo io sono contento di pagare Elisa anche se costa di più di qualsiasi altro coach perché so che trovo attenzione che trovo completamente uno spazio dedicato a me questo secondo me è veramente importante la cura dei miei post è un altro punto mi ha insegnato a curare i miei post come se fossi cracco che impiatta prima di servire un piatto e piuttosto ne pubblico uno in meno ma quello che pubblico deve darmi la sensazione di essere completo piacevole, bello deve farmi venire le farfalle nello stomaco a me prima che agli altri e quando riesco a fare questo ogni cosa che pubblico diventa sbam sbam è la nostra parola per dire cavolo arrivano arriva potente il messaggio di questo post non ha a che fare con il fatto di diventare ossessivo o perfezionista per me anche perché non lo sono e non lo sono mai stato magari un perfezionista si troverebbe quasi in difficoltà rispetto a questo punto ma anzi per me ha a che fare con la ricerca di una bellezza e della raffinatezza di voler condividere la mia autenticità nella maniera più pura e allineata possibile e perché quella qualità che voglio dare sia veramente sopra la media qualcosa che mi distingue da tutto il resto che c'è nel web arrivo anche alla cura del mio profilo perché è stata una cosa inaspettata ma che mi ha dato molta soddisfazione perché abbiamo innanzitutto strutturato anche la lead generation che è una cosa che io detesto tuttora e qui sono chiaro ma in un modo in cui mi obbligo tra virgolette a farla nella maniera più indolore possibile e nella maniera più efficace soprattutto possibile ho fatto il mio excel per tenermi traccia e ci dedico un quarto d'ora venti minuti al giorno ma neanche a volte e mi rendo conto che tenendo una statistica mi sta aiutando molto a capire cosa funziona e cosa no ok anche per quanto riguarda le amicizie non solo quelle che invio ma anche quelle che elimino ho fatto una pulizia molto profonda del mio profilo eliminando tutte le persone che non faranno mai il mio percorso perché lo so dentro la mia pancia e sono fuori target e magari neanche le conosco questo penso sia una delle cose più importanti al mio spazio ecco con Elisa ho imparato che è il mio tempio il mio profilo e se non mi prendo cura di quel tempio come voglio io soprattutto come fanno le persone a sentire di entrare in un campo coerente e di accoglienza e penso sia veramente fondamentale anche questo mi rende conto che lo sto dicendo per ogni punto ed è effettivamente così mi è piaciuto cosa mi è piaciuto di lavorare con Elisa mi piace più di tutto l'assenza totale di pressione o richiesta di essere performante fin da subito o di capire subito le cose perché la sessione quella sensazione del dover imparare in fretta perché tanto la sessione dopo abbiamo un altro argomento quindi dai via la nicchia l'abbiamo fatta adesso passiamo avanti senza chiedersi oddio ma la nicchia l'ho capita invece con Elisa mi sono sentito proprio accompagnato nell'immersione è stata un'immersione totale nella mia situazione nel mio studio si mi sono sentito con la sua attenzione e cura ogni giorno da quando lavoriamo insieme focalizzata su di me senza mai sentire che stessi togliendo qualcosa a lei e questo secondo me è importante non mi sono mai sentito in difetto a chiedere perché so che ho davanti una professionista che se non ha tempo me lo dice e mi risponde quando può che è una cosa che io già facevo con i miei clienti e che ho apprezzato molto nel lavorare con lei tipo mi viene in mente ci sono quei professionisti che magari sforano l'ora però li vedi che sono scocciati da questa cosa che non gli piace che li mette a disagio non lo fanno con piacere ecco con Elisa non l'ho mai proprio sentito e abbiamo sforato più volte e al di là del tempo che magari poi sia giusta lei è qualcosa di 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 bello sapere che cavolo non devo tagliare il mio processo per per riprenderlo da solo chissà quando no è inestimabile per me in concreto come dicevo quello che è successo alla mia attività è che ho venduto quattro percorsi a tre persone nuove e a una cliente che ha finito il percorso mi ha dato proprio il messaggio wow sono nella strada giusta e sono molto contento di averlo fatto e tre persone nuove che sono arrivate dai post e un sacco di richieste di informazioni un sacco di 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 interazione io ho un sacco di interazioni prima non ne avevo i miei post adesso ricevo 50 mi piace sacco di commenti dei messaggi in privato sento che che ha un effetto quello che sto facendo in più ho organizzato un incontro gratuito e per promuoverlo ho pubblicato solo un post è stato un esperimento che ho voluto fare ho chiesto all'esistenza e a facebook e ai social in generale di darmi sei persone massimo ero indeciso tra quattro e sei e me ne sono arrivate sei precise in realtà mi avevano chiesto informazioni anche altre ma quelle che hanno partecipato erano state sono state sei e la rivoluzione qui è stata che non è stata una sfida io la sfida me la vivevo con performance dovevo ricordarmi questo ve lo leggo perché l'ho scritto ieri molto bene di solito le sfide mi risucchiavano l'energia dovevo mandare tutti quei messaggi di invito stare impegnato tutti quei giorni perché dovevano durare tre quattro cinque giorni dando pochissimo ma non troppo poco tanto bisogna dare tanto valore ma non troppo valore vendere alla fine del percorso parlare del mio percorso durante però fare incontri molto brevi però dare il valore fargli fare un pezzettino far fare il viaggio al cliente per non farmelo scappare aiuto io mi stavo completamente perdendo in queste robe in queste strutture non riuscivo a starci dietro infatti cioè io dalle sfide uscivo che ero esausto mi sentivo veramente esausto dopo una sfida avevo lavorato per un esercito quando magari poi a dicembre la sfida che ho fatto aveva un sacco di persone tipo 10-15 persone iscritte ma poi cominciavano a non venire più perché si vede che l'energia il mio umore non teneva e nessuna si è convertita in cliente quindi è stata una bella batosta invece qui 6 persone ci sono andato in profondità ho fatto solo una serata mia modalità mi hanno dato i feedback da paura 2 persone mi hanno aggiornato e ho detto che il percorso lo vogliono fare non ho assolutamente l'esigenza che si iscrivano subito non sento quella pressione di vendere mi sono divertito e dopo la sfida dopo questo incontro gratuito l'ho voluto chiamare mi sono sentito proprio bene ricaricato ed è così che voglio sentire che lavoro per carità poi imparerò poi anche a vendere meglio il mio percorso durante questi incontri ma per ora mi va veramente bene sentirmi in pace e sentire che sto facendo qualcosa che mi piace in primis in più sento che ho tolto completamente quel muflone quel dubbio di questo lavoro lo voglio fare non lo voglio fare sono pronto a prendermi l'impegno sentivo che era un impegno grosso voler portare avanti questo lavoro che dovevo faticare diventare di successo da qualcosa di troppo ambizioso per me invece sento che adesso è proprio alla mia misura la mia attività sento la mia attività inequivocabile e questo mi permette proprio di stare sereno durante la mia vita di non dirmi devo licenziarmi subito o mollare subito i progetti che sto portando avanti alternativi di darmi i miei tempi di non sentire nessuna pressione o fiato sul collo di sentire che mi piace proprio fare il mio lavoro e che lo faccio nella misura e nei tempi che vanno bene a me sì a chi consiglierei questa è l'ultima domanda che mi sono fatto e che Elisa mi ha fatto e mi ha invitato a esplorare a chi consiglierei il percorso con Elisa e sicuramente se vi riconoscete con le parole che che ho detto prima o con le dinamiche che avevo dentro e che vi ho raccontato mi piacerebbe scrivere un libro su tutto quello che vi ho detto e già siamo a 37 minuti di video quindi è anche troppo quello che ho condiviso e può essere noioso ma se quello che di cui vi ho parlato vi risuona è state nel nel rimuginare continuo perché sentite di mettere in discussione voi stessi il vostro valore piuttosto che sentirvi leggeri e legittimati a fare il vostro lavoro a farlo con passione allora questo è un buon motivo per cominciare a lavorare con Elisa perché ho trovato in lei una persona che sa veramente valorizzare mi sono sentito valorizzato senza essere sviolinato come dire non ho sentito in Elisa una motivatrice ho sentito in lei una persona che sa vedere il valore degli altri sa grazie alla sua sensibilità e anche alla sua incapacità di canalizzare ogni nicchia di ogni professionista e di immedesimarsi nella nicchia in maniera molto precisa ho trovato una una sincera valorizzazione di me ho visto uno specchio cioè in Elisa mi sono specchiato e ho visto che cavolo se valgo come professionista cavolo se è vero che posso portare questo valore e sentirmene orgoglioso non sentirmi che sto rubando spazio a qualcun altro o che sto lavorando male se lavoro di testa mia quindi sì leggo di nuovo così faccio prima consiglierei un percorso con Elisa a quei professionisti del cambiamento che stanno sempre sull'orlo del burnout assolutamente perché non riescono a mettersi dentro a degli schemi o a dei metodi preconfezionati e che stanno cominciando a pensare di essere loro stessi il problema e che forse è meglio mollare il sogno di fare questa professione mi viene da dire proprio dal cuore non molliamo me lo dico anche a me stesso non molliamo questo sogno troviamo il modo di incalagarlo e di dargli una struttura che sia degna proprio della nostra missione il modo in cui Elisa riesce a ribaltare i pensieri autosabottanti quelli che avevo io ma anche quelli che hanno che vediamo tutte le settimane su zoom insomma negli eventi che sta offrendo gratuitamente e la capacità di evidenziare senza elogi né imbrogli il valore di quello che portiamo perlomeno per i professionisti che funzionano ovviamente come dice lei perché mi rendo conto che ci vuole la sostanza per riuscire a darle il valore e non è un giudizio non avercela la sostanza ma va costruita io mi rendo conto che le trasformazioni le porto alle persone e forse è proprio questo che mi ha portato anche a dire non mollo e vado avanti perché cavolo i clienti che seguivo erano molto contenti e io anche ero contento dei risultati che avevano so perfettamente come ci si sente quando si vuole gettare la spugna e quando le cose non funzionano da troppo tempo e non si capisce il perché sapere ora che è possibile sciogliere questo nodo e viversela con così tanto e viversela con così tanto piacere e così tanto meglio di prima mi rende talmente felice per tutte quelle brave persone bravi professionisti che incapperanno in un lavoro con Elisa perché cavolo il mondo ne ha proprio bisogno di noi e che noi portiamo questo valore quindi benvenga che ci sia una professionista come Elisa che funge proprio da valorizzatore valorizzatore di quello che abbiamo da portare e che ci insegna a leggere il valore perché non sento che è stata lei a leggerlo e adesso ha lei questa conoscenza sento che l'abbiamo fatto proprio insieme che è stato uno studio condiviso e che il suo punto di vista era il suo punto di vista ma che c'è sempre stato spazio alla mia autenticità e alla mia spontaneità quindi grazie mille Elisa per questo percorso perché è stato veramente un immergermi con profondità nella mia capacità di donarmi e di aprire il cuore agli altri e di prendermi cura di me della mia attività o perlomeno prendermi cura della mia attività quanto mi prendo cura di me perché sono una persona che si prende molta cura di sé almeno mi ritengo una persona che si prende cura di sé quindi apportare proprio questa potenza e questa energia di cura e di accoglienza che portano i miei confronti anche nei confronti della mia attività e condire il tofu il marketing che è come il tofu condirlo come voglio io grazie e grazie a tutti anche quelli che vedranno questo video lunghissimo io vi avevo avvisato che sarebbe stato lunghissimo 45 minuti oddio e comunque vi lascio anche il feedback che ho scritto perché anche leggerlo può dare degli insight e può aiutarvi a riconoscerli ancora meglio mi scuso se è stato noioso leggerlo al posto di condividerlo in maniera spontanea ma ho provato a inserirmi anche in maniera spontanea nel condividere o ampliare dei concetti che per me erano importanti bene si capisce che sono un gemelli e che mi piace parlare vi saluto e per favore datemi anche voi dei feedback su questo video ma anche sulla mia esperienza e raccontatemi la vostra e quello che state vivendo e grazie ancora Elisa per questo spazio che hai creato di condivisione nel gruppo e questo percorso che hai creato che wow quanto vale si ciao